Buon anniversario della Repubblica. Lo dico a chi rappresenta le istituzioni italiane in Australia, a Consolo e Generale Pappalardo, a tutti i consolati, alla nostra ambasciata. È un onore poter salutare in questo giorno tanti nostri connazionali che nel mondo celebrano la Repubblica Italiana. 76 anni di storia, 76 anni di scelte. Veniamo da una storia lunga, è vero, ma non saremmo dove siamo se non avessimo fatto le scelte importanti. La unità nazionale, la guerra di liberazione per liberarci dal nazifascismo e la scelta repubblicana. Oggi l'Italia è un grande paese in Europa e come tale noi nel mondo celebriamo questa nostra appartenenza a un grande paese e allo stesso tempo alla nostra comunità che si riconosce negli ideali e nei valori della Costituzione repubblicana. Buon anniversario della Repubblica, buon 76 anni e soprattutto buon lavoro.